La strada di Cupamacchia, ammacchiata da rovi e arbusti, è diventata un pericolo per gli automobilisti. In alcuni punti, dove l'antico sentiero di contada infornata si restringe, la visuale è pericolosamente oscurata dalle siepi cresciute a dismisura, ridosso e torrente penestrelle, e da tempo senza manutenzione. L'allarme è lanciato dagli automobilisti che percorrono la strada che collega Mercogliano e Monteforte Irpino ad Avellino, un sentiero storico che attraversa quella che fu la Valle dei Mulini, di recente è diventata una strada supertrafficata, sempre più utilizzata da chi vuole evitare i cantiere e il traffico di torrette per raggiungere in tempo utile il capoluogo. Quella che una volta era una romantica e suggestiva scorciatoia sul torrente, insomma, è da considerare una preziosa valvola di sfogo per la viabilità cittadina. Ma nello stesso tempo la strada andrebbe messa con urgenza e insicurezza. I veicoli che percorrono via Cupamacchia, infatti, rischiano l'impatto. I tornanti della strada, letteralmente imboscati, oscurano la visuale. Agli automobilisti, sempre più numerosi.